Ha vinto Chiara! Per una manciata di voti Chiara Sabati, infermiera di Urbino, ha battuto la consulente del lavoro Maddalena Vampa nel quarto di finale andato in scena ieri all'Osteria del Pisello di Sant'Andrea in Villis. Sia la giuria tecnica che quella popolare sono state abbastanza in linea nel premiere l'antipasto presentato da Chiara. Il tacchino si vesse d'autunno con polpettine di tacchino speziate con una salsa di zucca, zenzero e insalatina autunnale. Uno staff di cucina fantastico, mi hanno aiutato e sono stati veramente fantastici. È stato veramente divertente, una grande salata. Anche secondo di Maddalena dal titolo sfumature di verde con aresta di maiale impanata con pane verde e zucchine in agrodolce e insalatina di mela verde con semi di zucca è stato giudicato all'altezza della situazione. Ma per soli sei punti la cartocetana si è dovuta arrendere alla sua avversaria. Non importa perché è stata una bellissima esperienza comunque. Mi è piaciuto cucinare in una cucina professionale visto che non l'avevo mai fatto e ho dato il meglio di me e comunque mi sono divertita e questo è stato l'importante. Questa sera invece ultimo quarto di finale al ristorante Il Galeone. Si sfideranno Umberto Gennari, agente di commercio e il medico del 118 Maria Oliva Poggiani. Grazie.